Eccoci qua amici, bentornati da me e da Zul. Siamo a un altro tutorial di Six Sides Mind, un tutorial di un gioco che ci ha divertito veramente tanto, ma proprio tanto tanto. Parlo di Wonderlands War, questa guerra nel Paese delle Meraviglie, che ovviamente è ambientata nell'universo di Lewis Carroll e di Alice nel Paese delle Meraviglie. È un gioco veramente divertente per 2-5 giocatori, tra l'altro scala abbastanza bene in tutte le configurazioni, ovviamente dal meglio di 6 quando si gioca in tante persone. Diciamo forse il numero proprio perfetto è 4, ma anche in 5, ma anche in 2 ha delle regole per giocarlo in 2 giocatori, è un gioco che comunque diverte tanto. Potete intavolarlo facilmente, al di là del setup e dello smontaggio, diciamo, del rimettere a posto il gioco, che sono abbastanza articolati e lunghetti. Però la partita in sé, una volta che avete preso dimestichezza con le regole, che non sono molte come vedrete, dura 3 round, quindi insomma non è lunghissima. Allora, iniziamo subito a vedere il tabellone, questa versione di tabletop chiaramente è fatta bene, devo dire la verità, ma completamente non rispecchia al 100% i materiali che troverete nella scatola. Ci sono ovviamente nella scatola, a seconda della versione che avete, se è la base o la deluxe, avete gli standee, che qui sono fatti, devo dire la verità, abbastanza bene. Una serie di chips, di gettoni, che sono in cartone nella versione standard e sono invece in plastica rigida nella versione deluxe. E se avete la versione deluxe avete ovviamente anche le miniature. Però, come vi dicevo, il workshop qui è fatto decisamente bene. Allora, analizziamo un attimo il tabellone. Il tabellone di gioco è fatto da un tracciato segnapunti, come vedete, ai lati, e arriva fino a 49, ma chiaramente potrete andare anche oltre. Ogni personaggio, come vedete, ha una tesserina che quando supera con il suo segnapunti i 49 punti può infilare praticamente qui sotto. E ricorda che siete in questo caso a 51 punti. Addirittura potete superare i 100, ed è fattibile, nelle partite assolutamente si può fare. Quindi, tracciato segnapunti, poi abbiamo la bellezza di cinque regioni tipiche del Paese delle Meraviglie. Abbiamo la Pozza delle Lacrime, il Prato dei Fiori Viventi, la Foresta di Talghei. Abbiamo il Castello Rosso e abbiamo, praticamente, la strada che porta al mago. Questi cinque territori sono, praticamente, i territori dove ci si dà battaglia. Ecco, voi dovete cercare di prendere il dominio di quanti più territori possibili. Anche perché vedrete durante il gioco che vincere una battaglia vi dà non solo diritto a dei punti, ma vi permette di mettere uno dei vostri castelli nella regione. I castelli vi aiuteranno poi a vincere le successive battaglie e vi daranno dei punti a fine partita. Quindi sono molto importanti da mettere. Non ne potrete avere più di uno per ogni regione, quindi avete, insomma, massimo cinque castelli da mettere. E poi vedremo meglio come funzionano. Abbiamo poi qui su un tracciato. Questo qui è il tracciato della forza. Vedremo poi che le battaglie si basano su un valore di forza, un valore di forza che aumenterà a seconda dei gettoni che andrete a pescare dal vostro sacchetto. Sacchetti, tra l'altro, molto colorati, ma che qui nel workshop, come vedete, sono fatti da queste tazze, dove metterete i vostri gettoni a mano a mano che costruirete il vostro sacchetto. E' chiaramente un bag building, nel senso che la cosa importante è costruirsi un buon sacchetto in modo da prendere sempre i gettoni migliori. E vedremo che ci sarà anche un modo per eliminare eventualmente i gettoni meno forti. E poi abbiamo questa bella tavola qui per la cerimonia del tè, anche perché ogni round si divide in due fasi ben distinte. La fase del tè e la fase della guerra. Nella fase del tè i vostri personaggi siederanno a capotavola, come vedete qui dagli stand-in. Qui simuleremo una partita a tre giocatori, quindi Alice, Regina di Cuori e Cappellaio Matto. E a seconda dell'ordine, insomma, del turno, inizierete a girare attorno alla tavola. A girare attorno alla tavola e a piazzarvi in uno dei piatti liberi, dove non ci sono altri giocatori, chiaramente per prendere la carta corrispondente a quel posto. Le carte vi aiuteranno a potenziare il vostro sacchetto, a migliorare le vostre abilità di fazione, a scartare le terribili schegge della pazzia, che vi sottraggono punti a fine partita, ma che vi possono far impazzire, anche perché chi ha più schegge della pazzia prenderà un gettone pazzia. In più, i gettoni pazzia nel vostro sacchetto non sono proprio il massimo, ma poi vedremo bene come funzionano. Abbiamo anche un dado, come vedete qui, che è proprio un dado delle schegge della pazzia. Si tira in determinate occasioni e si vede, appunto, quante schegge si prendono. Qui dentro abbiamo i gettoni che vanno messi all'inizio, sono sei, e ovviamente vanno messe sulle cinque regioni, quindi danno un po' di casualità al gioco. Questi gettoni vanno messi qui e danno, durante il setup, il valore a quelle regioni. Ecco, una volta messi il sacchetto, si può anche togliere. E praticamente, vedete che ci sono tre valori. Questi tre valori indicano quanti punti fate se vincete la battaglia in quel territorio. Quanti punti fate in ogni round, perché vedete che mano a mano iniziano a crescere i punti. Per esempio, il colore azzurro è il colore del mazzo del primo round, che è questo qui, che verrà usato per piazzare le carte attorno al tavolo del tè. Il colore verde è il colore di questo del secondo mazzo, che verrà utilizzato nel secondo round per mettere le carte attorno al tavolo del tè, che ovviamente saranno sempre più potenti. E il terzo valore è quello rosso, perché il terzo mazzo, quello lì, per l'ultimo round, è proprio rosso. E vi darà appunto le carte che metterete qui intorno a mano a mano, quindi il gioco diventerà sempre più sfidante. Inizierete a fare guerre sempre più velocemente, con sempre più forza, e diventerà sempre anche più divertente. Allora, quindi per il nostro setup dovete piazzare gli standee o le miniature dei giocatori qui a capotavola. Prendete il mazzo del primo round, quindi questo qui azzurro, lo mischiate, lo mettete qui sul vassoio, e poi iniziate a posizionare le carte attorno al tavolo. Attenzione, io ne ho posizionate 13, perché? Perché vedete che questi ultimi due spazi sono con la croce barrata. Visto che stiamo giocando a tre giocatori, si ne posizionano solo 13. In quattro giocatori avreste piazzato anche una carta in questo spazio, in cinque l'avreste piazzate tutte, praticamente. E una volta fatto questo, il tabellone è quasi pronto. Dovete semplicemente sistemare, vi dico già da subito che avrete bisogno di un tavolo veramente molto grande per questo gioco, perché ha tanti tanti componenti, però molto belli, fatti molto bene. Ovviamente, oltre alle board dei giocatori, che andremo a vedere tra poco con tutti i pezzi delle board, dovrete sistemare gli eventuali standi o miniature degli abitanti del Paese delle Meraviglie. E sono il coniglio bianco, insomma, il marito e la regina di cuori, i gemelli, oppure Ampty Dumpty, l'uovo, oppure il millepiedi. Insomma, ci sono tutti i personaggi classici della storia. Con, vedete, hanno sia lo standee e sia ognuno ha dei suoi artefatti, tipo il coniglio chiaramente all'orologio. E questo è importante perché dovete sistemare a fianco al tabellone questo mazzo, che è un mazzo fatto di carte molto belle, Grandezza Tarocco, e questo mazzo lo mischiate, lo mettete a fianco al tabellone e poi tirate fuori dal mazzo tre carte. Ovviamente queste tre carte vi daranno degli alleati in più, perché durante la partita dovrete cercare di reclutare alleati che vi permettano di vincere. E gli alleati possono essere i due tipi. Possono essere gli abitanti del paese delle Meramiglie. Vedete che qui è uscito il tricheco Ampty Dumpty e poi è uscito praticamente il narghile del millepiedi, del bruco. E ovviamente, una volta che girate le carte, potete andare a prendere gli standee corrispondenti, li mettete sulla carta o in prossimità della carta. di modo che quando uno prenderà un alleato, che vengono definiti in inglese wonderlandiani, cioè un abitante del paese delle Meraviglie, prenderà anche ovviamente i relativi standee o i relativi gettoni. In questo caso qui vedete che non è un abitante, ma è un artefatto di un abitante. Come fate a distinguere? La carta dell'abitante ha sempre, vedete in basso, la figura dello standee e poi il più delle volte ha un valore. Questo è il valore di forza di quell'abitante. Mentre questo qui vi indica semplicemente il tipo di gettone. E i gettoni sono sempre due. In questo caso io vado a prendere questo e questo e me li metto qui, in modo che chi prenderà il larghile del bruco, prenderà anche questi due gettoni che metterà nel suo sacchetto. Guardate, il gioco si è dipendente dalla lingua, per carità in inglese, ancora non si trova in italiano, però veramente se masticate un pochino di inglese perché poi è veramente elementare, non mancatelo. Prendetelo perché è veramente divertente. Non so se verrà localizzato in italiano, speriamo, ma comunque veramente vi perdete un tanto divertimento per quattro parole di inglese, che sono veramente banali. Anche perché, come vedete, ogni abitante ed ogni artefatto ha delle sue abilità che verranno attivate in determinati momenti del gioco. Fatto questo, dovete poi sistemare tutti gli altri mazzetti degli alleati. Gli alleati classici sono questi, i soldati di cuori, i fenicotteri, le rose, queste qui, le torri e le creature. Tutti questi alleati possono esistere sotto due forme, una forma debole e una forma praticamente più forte. Tutto questo, la forma è indicata dal numero di pallini che c'è sotto al gettone, vedete, è indicata anche nella carta riepilogativa. Praticamente, quando c'è un solo pallino, come in questo caso, per esempio, la torre ha un valore 3 di forza. Quando invece nella sua fase è forte, quindi avete un gettone dello stesso alleato, ma nella sua condizione è forte, la torre andrà a valere 6 punti forza. La cosa interessantissima è che gli alleati possono esistere sotto vari set, ci sono vari set di alleati. Il set, per esempio, ha, vedete, scritto in alto a destra, è il set che viene consigliato all'inizio del gioco, ma ogni carta, come vi dicevo, ha vari set. Quindi vi posso far vedere gli altri set, per esempio, il set B è questo qui. Vedete che cambia la scritta, cambia l'effetto dell'alleato. E ovviamente gli effetti sono sempre più divertenti, sempre un pochino più complicati, ma niente di che. Quindi potete scegliere di giocare col set A, col set B, o addirittura provare a mischiare i vari set. Ovviamente il gioco è fatto molto bene perché c'è un bel riepilogo che ogni giocatore può avere, che vi riepiloga proprio le abilità di tutti i set. E lo avrete sempre sotto mano, oltre ad avere poi a un certo punto, come vedete, questi bellissimi diagrammi che vi riepilogano in maniera veramente efficiente sia i simboli, come in questo caso, e sia le varie fasi di gioco. Ma le fasi di gioco le vedremo assieme tra poco. Poi che si fa per il tabellone? Poi passiamo alle board dei giocatori. Una volta che avete posizionato le carte, qui ci sono gli scrigni, chiaramente non ci saranno gli scrigni nel gioco base, ci sono ovviamente semplicemente i gettoni che andrete ad impilare vicino alle carte. E vedrete che appunto dal di là dei cinque alleati c'è anche questa, che è la carta forgia, che non è un alleato, ma vi permette di fare appunto l'azione di forgiatura che vi libera dai gettoni, quelli più deboli, quelli che vi intasano il sacchetto, e soprattutto vi permettono di avanzare su un tracciato, il tracciato forgia, che è molto interessante, ma che vedremo dopo. La cosa che si fa quindi qual è? Si piazza questo standee della spada, Il manuale dice nel Red Keep, qui in questa regione qui, dopodiché dovete tirare il dado qui e vedere quante schegge escono e poi muovete questa standee di tanti passi quanti sono le schegge. In questo caso mi sono mosso di uno, perché? Perché vuol dire che la prima battaglia avrà luogo qui. Questa spada semplicemente vi indica qual è il primo territorio in cui si inizierà a combattere. Tutti gli altri territori saranno ovviamente quelli in senso orario, quindi questo era il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, dopodiché la fase della guerra sarà finita. Poi si mettono appunto i segnalini dei giocatori sul tracciato della forza, i segnalini dei giocatori sul tracciato dei punti, abbiamo già detto gli standee lì a capotavola, e il setup, diciamo, del tabellone è finito. E adesso vediamo un po' come sono fatte invece le schede dei giocatori. Analizziamo per esempio la scheda di Alice. Le schede sono molto belle, veramente fatte bene. Alcune le hanno implementate, nel senso quella del cappellaio matto e quella del drago, del Jabberwock. Le hanno semplicemente leggermente modificate, perché avevano dei leggeri problemi di equilibrio. E analizziamo quindi la scheda di un personaggio. Come è fatta? Beh, innanzitutto dovete prendere oltre alla scheda, dovete prendere tutti i vostri supporter, che sono i meeple del vostro colore, i cinque castelli che potrete piazzare, e poi ci sono questi gettoni, praticamente blu, questi token blu di legno, che vanno messi in corrispondenza, appunto, di questi simboli con la freccia in alto, che indicano praticamente l'upgrade delle vostre abilità di personaggio. A mano a mano che acquisirete queste abilità, ovviamente libererete lo spazio e potrete fare quello che sta scritto qui. Come vedete, ogni personaggio ha ben quattro abilità. Quattro di queste, di solito, due di queste sono inerenti più o meno alla fase del te, due di queste sono inerenti più o meno alla fase della guerra. Qui in alto vedete che c'è l'abilità unica di ogni personaggio. Per esempio, Alice ha questo strange reflection, no? Cioè, lei rispetto agli altri personaggi, invece di muoversi in senso orario attorno al tavolo del te, Alice si muove in senso anti-orario. E voi direte che cambia, e poi lo vediamo dopo. Quindi, mi raccomando, fate vostra, ovviamente, l'abilità del vostro personaggio, perché sono tutte abilità, quelle là univoche dei personaggi, che vengono usate nella fase del te. Però sono decisamente utili da sfruttare. Ancora qui, nell'angolo in alto a sinistra, c'è uno scudo. Questo scudo serve a parare, praticamente, gli effetti negativi, che possono essere i gettoni della piazzia, che sono questi di cui parleremo tra poco, oppure altri effetti. E, ovviamente, una volta che parate l'effetto, lo scudo si gira dall'altra parte, nel senso che il rotto non potrete più parare un effetto negativo fino a quando non lo ripristinerete in maniera integra. E poi vedremo come si fa. Poi vedete che ogni personaggio ha delle chips tipiche del suo personaggio. Alice, per esempio, ha queste qui con la sua faccina. E queste qui sono le prime chips che dovete mettere dentro al sacchetto. Ne vanno messe tre di valore uno, con la faccia di Alice, quindi questa, questa e questa. Dopodiché una di valore due. E poi ogni personaggio ha degli oggetti, degli artefatti, che sono tipici suoi. Alice, per esempio, ha questa spada. La spada, tipo, del fato. E all'inizio avete sei di questi gettoni, quattro li mettete qui alla fine di questi tracciati di cui parleremo tra poco, e due invece, come vedete, hanno un valore di tre di forza, quindi sono molto forti. Questi artefatti li mettete nel sacchetto. Dopodiché ogni giocatore mette nel sacchetto anche un gettone forgia, e poi vedremo a che serve. E poi ogni giocatore mette due gettoni pazzia di valore uno, poi vi spiegherò che cosa che cosa significa questo simbolo, e un gettone pazzia di valore due. Una volta fatto questo, il vostro sacchetto è completo. No? Gli date una mischiata e siete praticamente pronti con il sacchetto. Poi che cosa c'è ancora? Abbiamo questa parte qui su, dove ci sono tutti questi sì, segni, che sono praticamente la parte superiore della vostra board dove andrete a mettere i gettoni che tirerete fuori dal vostro sacchetto. Quando tirerete fuori questi qui della pazzia andranno qui nel tracciato della pazzia e andranno a riempirlo, ma quando tirate fuori un altro gettone questi vanno messi qui, in questo modo, e sono i gettoni, come vedete, attivi, come sta scritto qui, perché c'è una differenza tra gettoni attivi e gettoni esausti che invece vanno messi qui sotto, ma poi vedremo meglio come funziona il tutto. Quindi questa è la zona dei gettoni attivi, questa è la zona dei gettoni della pazzia, e poi ci sono i tracciati, questi qua, della forgia. I tracciati della forgia sono quattro, vedete, uno, due, che hanno ben quattro spazi, tre, e questo qui che ha tre spazi e questo sopra ha due spazi. Attenzione, perché ogni volta che potete fare l'azione di forgia che poi vi spiegherò, potete mettere un gettone che non vi piace, per esempio questo qui che è molto debole, nel momento in cui io posso fare l'azione di forgia lo posso prendere e lo metto invece su uno di questi tracciati, sullo spazio più a sinistra, però posso scegliere qualsiasi tracciato e posso scegliere di iniziare da sopra, da sotto, dal mezzo, però poi se voglio continuare su questo tracciato ovviamente dovrò mettere un altro qui, poi qui e sono molto interessanti questi tracciati perché oltre a farvi togliere il gettone diciamo debole vi permettono di prendere anche i bonus che sono sotto e la cosa interessante per esempio questo tracciato qui in fondo questa freccia qui verso l'alto indica che potete liberare una delle vostre abilità questo invece simbolo è la torre di un castello vi indica che praticamente potete aumentare il valore di punti dei vostri castelli perché ogni castello che piazzerete nelle regioni alla fine del gioco ha un valore base di tre punti vittoria però se iniziate a salire su questo tracciato vedete che qui c'è il numero 4 nella stellina vuol dire che ogni castello se avete ovviamente messo un gettone qui su alla fine invece di tre punti varrà quattro punti e come vedete potete arrivare a far valere i vostri castelli 5 ma addirittura 6 punti quando completate tutto il tracciato cioè ci mettete quattro gettoni qui liberate immediatamente un gettone artefatto che è uno di questi alla fine del tracciato e lo mettete immediatamente nel vostro sacchetto quindi guadagnate un altro gettone molto forte quindi qui sotto sbloccate l'abilità aumentate i punti dei castelli qui invece prendete una quest e poi vedremo che sono appunto queste carte quest e liberate un vostro supporter i supporter sono limitati e servono ovviamente a permettervi di partecipare alle battaglie quindi una volta che avete finito questi non ne avrete di più e allora liberare altri supporter vanno a finire nella riserva e avete più supporter a disposizione che sono molto utili sia per partecipare alle battaglie sia per non sballare le battaglie poi vedremo che significa sballare qui ne liberate un altro qui ne liberate la bellezza di due insieme e se arrivate alla fine del tracciato qui guadagnate immediatamente 4 punti vittoria e liberate il solito token le spade invece le spade servono ad aumentare la forza del leader ogni leader ha questo tracciato di forza si parte tutti all'inizio da 1 quindi ogni leader ha un valore di forza pari a 1 e ogni volta che trovate questo simbolo sia qui sul tracciato della forgia ma sia sulle carte del tè che in altre occasioni potete aumentare la forza del vostro leader quando la forza è al massimo non potete più aumentarla però se vi esce un altro simbolo spada o potete fare l'azione appunto di aumentare la forza invece di aumentare resta sul 6 ma eliminate una scheggia della pazzia e quindi è buono perché ovviamente non perdete tanti punti a fine partita poi vedete che ci sta questo simbolo qui di questa specie sta la tite barrata ecco questa qui è sempre il simbolo di eliminare schegge della pazzia attenzione perché vedete che a volte tra i due tracciati c'è un altro simbolo ecco questo è o addirittura un bonus in più che potete fare ma solo nel momento in cui avete messo un gettone sia sopra che sotto è sempre in mezzo a due tracciati vedete c'è anche qui questo addirittura questo simbolo vi fa scartare quando vedete questo simbolo un gettone pazzia dal vostro sacchetto e quindi per fare avere anche il bonus centrale dovete riempire lo spazio di sopra e lo spazio di sotto dei due tracciati questi sono i tracciati della forgia questo è lo spazio abbiamo detto per le chips esauste e poi vabbè qui nel workshop avete ovviamente il il conta schegge quante schegge avete ovviamente nel gioco sono bellissime sono piccoline nere di cristallo e qui quanti punti vittoria avete accumulato per esempio questi qui nelle stelle blu che poi alla fine del gioco andranno ovviamente trasmutati nel tracciato dei punti ovviamente qui il workshop mette 4 spazi per le carte quest 4 spazi per i wonderlandiani cioè le carte e gli alleati che andrete ad acquisire qui gli artefatti e gli alleati ma ovviamente questi 4 spazi sono di comodo per il workshop in realtà voi potete avere quanti wonderlandiani volete una volta acquisita questa carta che può essere appunto il personaggio l'artefatto del personaggio resta vostra per tutta la partita e quindi non sono male i wonderlandiani le quest pure ne potete avere quanti volete stessa cosa per il tracciato qui su porta 8 spazi ma in realtà le chips attive che potete tirare fuori dal sacchetto possono essere anche più di 8 e quindi poi andrete a continuare che da questa parte fuori dalla porta e qui il workshop vi lascia uno spazio per mettere tutte le carte che andrete a prendere durante la cerimonia del tè durante la cerimonia del tè ogni giocatore acquisirà 4 carte e quindi insomma in 3 turni riuscirete ad accumulare 12 carte che vi permetteranno di potenziarvi e di cercare di vincere la wonderland's war la guerra del paese delle meraviglie bene detto questo per completare il setup del giocatore oltre a mettere tutti i vostri artefatti qui alla fine del tracciato sistemarvi tutto come avete visto bisogna prendere 2 carte quest all'inizio se ne prendono 2 e adesso le analizziamo e le faccio vedere le mettiamo qui e le si girano ovviamente non le fate vedere agli altri come sono fatte le carte quest sono fatte di 2 spazi una parte di sopra che è praticamente il requisito che vi permette poi di giocare la carta e una parte di sotto che completa la quest che potete però eventualmente anche non completare nel senso non è obbligatorio completarla nel momento in cui avete requisiti della parte di sopra potete giocare la carta e sicuramente fate 3 punti a fine partita vedete sta scritto qui fit 3 victory points questo qui vuol dire che una volta l'avete messo a terra avete i 3 punti a fine partita se poi riuscite a fare anche l'obiettivo di fine partita non solo farete 3 punti ma ne farete altri 3 quindi 6 e poi il gioco per premiarvi vi da come si sta scritto qui sotto altri 3 punti aggiuntivi se li avete fatti tutti e due insomma se riuscite a completare sia la parte di sopra che la parte di sotto a fine partita ogni carta di questa vi vale ben 9 punti vittoria e quindi non è male e per esempio analizziamo un po' questa qui perché le parti di sopra sono simpatiche e molto spesso le dovete fare durante le battaglie e in determinati territori per esempio questa carta qui la potete fare se finite una battaglia su un simbolo forgia quali sono i simboli forgia i simboli forgia sono qui sul tracciato della forza e sono questi martellini quindi se voi terminate la battaglia con il vostro gettone in uno spazio dove c'è un simbolo forgia alla fine della partita che però attenzione deve avvenire qui nel red keep quindi deve essere una partita che è stata disputata in questo territorio voi potete dire io ho fatto l'obiettivo lo mettete a terra e lo togliete dalla vostra mano lo mettete a terra scoperto e ce l'avete praticamente qui la parte di sotto qual è? dice dovete avere 4 o più carte della cerimonia del tè che vi ricordo sono queste qua 4 o più carte della cerimonia del tè che non hanno supporters che non hanno il simbolo dei supporters che non hanno per farvi capire il simbolino del meeple vedete che di solito è in alto a sinistra o a volte come vedete si trova anche sulla carta quindi se alla fine della partita avete ovviamente giocato questa carta e avete 4 o più carte tra quelle accumulate durante le cerimonie del tè che non hanno simboli con il meeple dei supporter avete fatto anche la parte di sotto e questa carta vi varrà 3 più 3 più 3 9 punti ecco quindi all'inizio ne pescate 2 ne scegliete una quale tenere l'altra va nella pila degli scarti delle quest e resta qui ovviamente le quest le potete acquisire anche durante il gioco ne potete acquisire altre se siete bravi a vedere quante carte quest avere e soprattutto risolvere potete fare veramente tanti punti attenzione vi faccio vedere un'altra carta perché questo per esempio anche dice dovete praticamente finire una battaglia con una chips di fazione con un gettone di fazione che sono quelli di fazione sono quelli blu oppure con un gettone artefatto che sono questi qui no? gli artefatti dei wonderlandiani dice dovete finire una battaglia con uno di questi due gettoni che deve essere il vostro gettone finale nel tracciato dei gettoni attivi quindi praticamente dovete finire una battaglia e l'ultimo gettone che sta qui su questo tracciato deve essere un gettone vostro un gettone artefatto dei wonderlandiani se fate questo ovviamente potete mettere questa a terra e vedete che la parte finale invece qui dice che alla fine dovete avere sette o più creature e o carte soldato che vuol dire che praticamente se alla fine del gioco avrete nel vostro sacchetto oppure qui messi nel tracciato della forgia dappertutto insomma vengono considerati dappertutto se avete sette gettoni tra creature e carte soldato potete avere o solo sette creature o solo sette carte soldato oppure sette tra creature e carte soldato avete risolto anche la parte di sotto attenzione perché se c'era un altro obiettivo alla fine della partita che vi diceva che dovevate avere per esempio le stesse cose tipo carte soldato quel gettoni carte soldato che avevate considerato a fine partita per questo obiettivo li potevate considerare anche per altri obiettivi nel senso che i gettoni non valgono esclusivamente per una sola carta obiettivo li potete utilizzare ovviamente su varie carte ok detto questo ogni giocatore appunto si prende la sua carta quest se la tiene in mano ed è pronto poi a a giocarla nel momento in cui realizza la parte di sopra bene adesso andiamo ad analizzare un pochino le carte del tè perché hanno dei simboli ma che sono veramente banali infine prima di partire stabilite il primo giocatore e poi a seconda del numero dei giocatori diciamo che il primo giocatore prende un tot di schegge di pazzia il secondo un po' meno e il terzo ancora meno questo per bilanciare il fatto che il primo ovviamente parte avvantaggiato e mettiamo che la regina di cuori fosse il primo giocatore quindi in una partita a tre la regina di cuori prende tre schegge il secondo in senso orario e il cappellaio matto prenderebbe due schegge e Alice una dopo di questo siete pronti a partire dicevamo quindi fase del tè la prima fase del round che cosa si fa? allora il primo giocatore all'inizio viene scelto a caso poi nei successivi round il primo giocatore sarà chi ha il minor punti sul tracciato dei punti allora in caso facciamo caso che il primo giocatore è la regina di cuori la regina di cuori abbiamo detto si può muovere di quanti spazi vuole e andare su una qualsiasi carta che a le interessa capirete bene che muoversi per primi chiaramente è un vantaggio perché potrete andare a prendere le carte che magari sono a voi più consone senza che nessuno se le fregate prima analizziamo un po' le carte allora le carte hanno uno spazio in alto a sinistra in alto a destra e una grafica centrale in alto a sinistra di solito sono sempre indicati i meeple che sono i supporter i supporter che io posso andare a piazzare all'interno di una regione e questo è molto importante perché io potrò prendere parte a una battaglia solamente se avrò almeno un supporter o il mio leader oppure un buon derlandiano se non ci sono se non c'è nessuno di questi tre elementi io praticamente in quel territorio non potrò combattere qual è la cosa diciamo il trick un po' complicato è che i meeple che andrete a prendere dovrete metterli tutti nello stesso territorio non li potete dividere su più territori e quindi se il cappellaio matto dico il cappellaio matto perché in realtà la regina di cuori la sua abilità qual è? è che i meeple che va a prendere invece li può distribuire e quindi invece a differenza di tutti gli altri in questo caso la regina di cuori se si ferma qui perché vuole questa carta che fa prende due dei suoi meeple e se fosse stato un altro giocatore avrebbe dovuto metterli tutti in un territorio invece essendo la regina di cuori la sua abilità come vedete qui in alto you may play supporter into in regioni multiple e quindi praticamente la regina decide di metterle uno qua uno qua poi questa carta che fa fare di più alla regina quando vedete queste sono i gettoni quindi fa prendere due gettoni fenicottero che come vedete hanno un solo pallino quindi sono quelli deboli due gettoni fenicottero alla regina quindi li prende andate a prendere dalla pila corrispondente ecco questi sono quelli da un pallino quindi prendo due gettoni tutte e due e li metto nel sacchetto della regina tutti i gettoni che prendete vanno sempre nel sacchetto quando vedete le immagini dei gettoni dopodiché vedete che in alto a destra c'è questo strano cubo nero il cubo nero che è anche qui a capotavola è purtroppo il dado delle schegge quindi se si vuole prendere questa carta e in alto a destra c'è il cubo nero bisogna tirare anche il dado delle schegge due schegge per la regina che quindi seleziona qui nel suo contatore due se no prendete due cristallini neri nel gioco reale dopodiché questa carta la regina la prende e se la mette qua la deve conservare no? perché come avete visto alcune carte a fine partita danno punti a seconda delle quest facciamo che tocca al cappellaio matto il cappellaio matto deve continuare a girare e scegliere le carte attenzione voi potreste anche andare direttamente su questa carta che è l'ultima il problema poi qual è? è che dopo dovete continuare a girare in senso orario e allora dovrete ripassare per il posto del capotavola ogni volta che passate per il posto del capotavola dovete tirare come stai evidenziato qui il dado delle schegge della pazzia e quindi fare troppi giri diciamo fare quattro giri attorno al tavolo non è proprio il massimo però c'è un vantaggio che quando ripassate e tirate il dado della pazzia potete ripristinare tutte le carte che magari non ci sono più facciamo un esempio magari il cappellaio matto fa un giro attorno al tavolo Alice è qui e allora che succede lui tira il dado tira il dado vede quante schegge prende dopodiché dal mazzo mette tante altre carte ne mette nei posti liberi dove non ci sono già altri giocatori quindi gira queste carte diciamo che avete la sfiga di tirare il dado delle schegge però avete anche la fortuna di ripristinare le carte e magari vi esce qualcosina di simpatica anche perché poi dopo che avete fatto questo giochetto di tirare il dado e ripristinare le carte ovviamente continuate il giro e andate dove vi conviene e ovviamente la cosa importante è cercare di passare il posto del capotavola quando ci sono molti spazi vuoti in modo che fate un refresh delle carte del tè molto più ampio e avete molta più scelta rimettiamo queste questo è giusto per dirvi che voi potete muovervi ovviamente su qualsiasi posto però però insomma non non vi conviene andare troppo in fondo perché poi fate subito un giro insomma cercare magari di prendere un po' di carte alla volta prima di completare un giro quindi vediamo un po' gli effetti delle carte allora meeple in alto a sinistra sempre si prendono i meeple si mettono tutti nello stesso territorio tranne la regina di cuore questo vi da un gettone alleato creatura ovviamente sempre debole questo simbolo vi fa togliere un gettone una scheggia della pazzia se ce l'avete stessa cosa qui tre supporti da mettere in una regione alleato rosa debole che vale due qui addirittura avete tre effetti senza meeple prendete un gettone forgia e lo mettete nel vostro sacchetto c'è il simbolo della spada quindi chi viene qui aumenterà la forza del suo leader e scartate addirittura una scheggia della pazzia queste carte grigie vi aiutano a capire che sono carte particolari qui sempre la stessa cosa se prendete questa carta avete un supporter da piazzare qui c'è il simbolo della carta del wonderlandiano quindi chi prende questa può scegliere tra le tre carte disponibili attenzione appena scelto il giocatore si prende quella carta e si rimpingua immediatamente con una carta successiva che magari potrà essere scelta da un altro giocatore in questo caso come vedete sono praticamente la crine dell'unicorno quindi questi sono dei gettoni e li mettete qua e il varlus va a chi se l'è presa quindi si rimpingua immediatamente quando si prende il wonderlandiano che succede questa carta grigia vedete che c'ha sempre il dado della sfiga il dado nero delle schegge e vi dice guardate se voi volete tirare il dado delle schegge potete fare anche questo effetto che sta sotto quindi il giocatore può scegliere dice vabbè me la prendo una scheggia però piazzo altri tre supporter ovviamente potete anche scegliere di non fare questa azione e di non tirare il dado e fate solo la parte di sopra se fate questa azione questi altri tre supporter vanno possono essere messi anche in un'altra regione nel senso che questo lo mettete in una regione e questi tre li mettete tutti insieme in un'altra quando ci sono più simboli di supporter su una carta per ogni simbolo potete ovviamente metterli in una regione diversa stessa cosa qui carta del wonderlandiano questo simbolo con tutti i colori dell'arcobaleno di valore 1 vi dice che potete prendere semplicemente un alleato qualsiasi tra tutte e cinque lo scegliete voi deve essere sempre di valore 1 ancora carta grigia supporter questo simbolo vi ricordate la freccia vi fa praticamente sbloccare una delle vostre abilità il personaggio cioè levate uno di questi gettoni da dove volete voi e se tirate il dado nero ovviamente potete scegliere un supporter qualsiasi stessa cosa per questa carta quando c'è la sbarra potete fare o l'azione di sopra o l'azione di sotto i supporter in alto a sinistra li beccate sempre però poi per la carta qui o prendete la carta di un buon derlandiano oppure aumentate di uno le vostre abilità cioè sbloccate una vostra abilità stessa cosa qui o quella di sopra o quella di sotto levando anche una scheggia e qui addirittura prendete un un supporter un alleato scusate un alleato carta di cuore di valore 1 e prendete addirittura una quest e anche questo alleato qualsiasi quest se tirate il dado nero quindi come vedete la cerimonia del tè serve praticamente a rafforzarvi a rafforzarvi a cercare anche di rispettare i requisiti delle vostre carte obiettivo se ne avete per esempio abbiamo visto prima che Alice aveva questa che deve possedere alla fine del gioco 4 o più carte del tè senza il simbolo dei supporter senza il mipolino e quindi diciamo che Alice forse qualche carta senza tipo questa la dovrebbe prendere e quando finisce la cerimonia del tè la cerimonia del tè finisce quando tutti hanno acquisito 4 carte non appena un giocatore acquisisce 4 carte che fa prende il suo leader e lo mette in una regione qualsiasi potete metterlo a supporto delle vostre truppe potete metterlo in un'altra regione anche perché vi ricordo che il leader è comunque considerato un'unità al pari dei supporter e al pari dei wonderlandiani e le unità come vi dicevo all'inizio vi permettono vi danno il diritto di partecipare alla battaglia ok quando tutti hanno preso 4 carte e si sono piazzati in alcuni territori la fase del tè è finita una volta finita la fase del tè che succede ognuno prende un gettone della pazzia ognuno perché il tè è comunque una cerimonia simpatica ma è del cappellaio matto e quindi insomma è un po' un po' strano qui quindi dobbiamo prendere 3 gettoni ogni gettone della pazzia viene preso dai rispettivi giocatori e messo nel suo sacchetto dopodiché si vede chi ha più schegge della piazzia chi ha più schegge si piglia un gettone in più se ne prende un altro e i gettoni della pazzia non sono proprio il massimo come andremo a vedere tra poco per le battaglie in questo caso vabbiamo fatto manco mezzo giro però insomma in questo caso Alice ne aveva 0 la regina di cuori ne aveva 2 e allora la regina di cuori avrebbe preso il gettone pazzia in più e l'avrebbe messo nel suo sacchetto però qual è diciamo il bonus che vi danno in questa sfiga ulteriore è che anche se voi siete stati quelli a prendere il gettone in più della pazzia potete poi una volta preso scaricare cioè eliminare la metà delle vostre schegge e la pazzia arrotondate per eccesso quindi in questo caso sono 2 io la regina di cuori sarebbe preso il gettone e la pazzia però avrebbe eliminato una scheggia che è la metà la metà di 2 ok detto questo questa è la cerimonia del tè e adesso passiamo alla fase delle battaglie vi farò degli esempi proprio come gli esempi che dà sul manuale siamo alla fase della guerra quindi è che guerra sia allora dove si inizia a combattere per primo si inizia a combattere ovviamente dove c'è il simbolo della spada quindi combattiamo a Tulgey Woods chi è coinvolto in questa battaglia abbiamo un supporter di Alice un supporter del cappellaio un supporter della regina di cuori quindi tutti e tre sono abilitati a partecipare alla battaglia la prima cosa che si fa è praticamente vedere la forza si deve definire la forza iniziale la forza iniziale è data dai valori di forza di eventuali personaggi allora i supporter ve lo dico subito hanno un valore di forza zero quindi vi permettono di partecipare alla battaglia cioè di pescare i vostri gettoni dal sacchetto ma non vi danno nessuna forza quindi in questo caso il valore iniziale di forza per tutti e tre è zero proprio come stanno qui ora simultaneamente che succede che ognuno di loro ognuno di loro mette una mano nel sacchetto prende un gettone ovviamente senza vedere e lo tiene stretto nel pugno poi tutti tirano il pugno fuori tutti lo mettono davanti un po' come si fa con la morra cinese no? e poi tutti insieme si apre la mano e si vede che esce dal sacchetto e vi assicuro che questa è una delle parti più divertenti del gioco perché non sai mai cosa ti aspetta e fai un tifo sfegatato per cercare di evitare ovviamente i gettoni negativi del tuo sacchetto e magari con la fortuna ti esce uno positivo vabbè in questo esempio ovviamente non posso farlo simultaneamente ve lo faccio uno alla volta quindi vediamo Alice che tira fuori mischiamo un pochino e tiriamo fuori il primo oggettone Alice tira fuori un gettone della pazzia allora i gettoni della pazzia hanno questo simbolo del meeple strappato che vuol dire che una volta tirato fuori questo oggettone va a finire qui nel tracciato del meeple e la prima cosa perdete un'unità in quella regione Alice ne ha una sola quindi questa qui si perde torna nella sua riserva però senza unità praticamente Alice è fuori quindi avrebbe perso l'avrebbe sballato avrebbe perso la la possibilità di continuare quindi diciamo che Alice non vuole fare questo poi vediamo che succede quando si sballa e come esce il gettone della pazzia lei lo para con il suo scudo e quindi lo scudo si fa a pezzi però Alice mantiene il suo supporter vediamo invece la regina di cuori cosa fa la regina di cuori tira fuori un suo artefatto che è un'ascia da tre e quindi dovete poi per ogni aggiornare il tracciato qui della forza ogni volta quindi la regina di cuori fa uno due e tre e si muove in questo livello terza presa che vi ricordo sono tutte ovviamente sono tutte simultanee terza presa quella del cappellaio matto mischiamo un po' tiriamo fuori il gettone ed è uscito un gettone suo praticamente della fazione quindi che ha un valore di forza uno quindi il cappellaio matto va a uno si continua perché ovviamente nessuno ha sballato attenzione che dopo la prima presa potete scegliere eventualmente di ritirarvi nel caso vi ritiraste siete ancora in gioco ai fini della vittoria però ovviamente se in questo esempio il cappellaio matto si ritira e la partita e la battaglia dovesse finire in questo momento il primo posto andrebbe alla regina di cuore il secondo posto andrebbe ancora al cappellaio matto nonostante si sia ritirato perché solamente quando sballate cioè quando uscite dalla battaglia non prendete nessun beneficio ma tutti vogliono continuare quindi Alice si tira fuori un altro oggettone ed ha una bella torre rossa da 3 quindi Alice recupera e arriva qui la regina di cuori tira fuori un altro oggettone che è un fenicottero da 1 quindi aumenta ancora di 1 ma il fenicottero è un alleato quindi dovete andare a vedere il fenicottero che fa il fenicottero vi dice che raddoppia la forza del prossimo oggettone che voi pescate quindi praticamente la regina di cuori sa che il prossimo oggettone che tirerà fuori varrà il doppio della forza quindi se tirasse fuori un'altra ascia da 3 addirittura avrebbe 6 punti forza per il suo tracciato vediamo il cappellaio matto che fa il cappellaio matto tira fuori un gettone praticamente della della pazzia quindi lo mette qui lui vuole riservarsi lo scudo per ulteriori scontri quindi che fa praticamente sballa perché il gettone gli elimina il suo supporter e lui non ha più supporter nella battaglia sballa che vuol dire che praticamente torna a 0 sul tracciato della battaglia e praticamente tutte le sue chips attive diventano immediatamente esauste e si mettono qui sotto nel caso il cappellaio matto avesse usato un suo scudo nel momento in cui si sballa si salta se avete uno scudo rotto lo potete ripristinare questo è uno dei pochi momenti in cui potete ripristinare lo scudo non sempre si può fare nel senso che lo scudo di solito resta rotto fino a quando non c'è una carta che vi dice di ripristinarlo un effetto o a questo punto una sorta di sballo restano in gara Alice e la regina che continuano a giocarsela Alice purtroppo tira via un altro gettone della pazzia quindi Alice deve per forza eliminare il suo supporter e anche lei in questo caso sballa quindi Alice che fa ritorna a zero sul tracciato della forza e le chips attive diventano esauste in questo caso però Alice ha per esempio lo scudo rotto quindi avendo sballato lo ripristina vedete che qui resta ancora tutto così sul tracciato perché solamente quando si riempie il tracciato si rimettono tutti i gettoni della pazzia e tutti i gettoni esausti nel vostro sacchetto vincitore insomma per eliminazione degli altri giocatori è la regina di cuori che vincendo che fa prende i due punti del del premio diciamo per il primo round quindi la regina di cuori va a due punti qui sul tracciato e poi mette un suo castello il castello viene messo qui ovviamente che succede che il suo supporter resta qui quindi la prossima volta la regina di cuori già si troverà un unità lì che potrebbe essere utile per vincere la battaglia anche nel round 2 nel round 2 se vincesse questa battaglia non potrebbe mettere un altro castello perché già ce l'ha però prenderebbe 6 punti che comunque non è poco attenzione perché ogni castello vi aggiunge due punti forza alla forza iniziale della battaglia la prossima battaglia quindi la regina di cuori qui avrà 0 punti forza perché il supporter non vale niente ma avrà 2 punti forza del castello quindi la prossima battaglia la regina di cuori qui a Talgay Woods inizierà con 2 attenzione i 2 punti forza del castello si attivano solamente se c'è ovviamente un'unità associata se non ci fosse niente ma solo il castello la regina qui non avrebbe nessun valore di forza né potrebbe prendere parte alla battaglia perché per prendere parte della battaglia ci deve essere sempre una unità che come vi ricordo può essere un supporter può essere il leader può essere un wonderlandiano bene esaurita questa battaglia andiamo a vedere invece qui nel prato dei fiori viventi che succede qui ci sono solamente Alice e la regina di cuori che hanno un wonderlandiano e la regina di cuori ha due supporter Alice ne ha uno solo andiamo a vedere questi wonderlandiani che fanno perché dobbiamo calcolare la forza iniziale della battaglia Humpty Dumpty come vedete ha questo valore di forza che è 5 e Humpty Dumpty quindi dà un valore iniziale ovviamente qui si riazzera tutto per la nuova battaglia dà un valore iniziale di 5 ad Alice dopo di che il il tricheco qui dà invece un 2 punti 2 punti forza alla regina di cuori quindi la regina di cuori parte da qui che succede al terzo giocatore che fa sta lì con le mani in mano e aspetta che questi giocano no la cosa divertente di questo gioco è che ci sono delle carte per scommettere no e quindi che succede io ho le carte e questa non c'è questo giocatore non c'è neanche il gatto c'è però ho queste altre due carte quindi potrei scommettere sul vincitore nel caso io voglia scommettere praticamente per esempio qui voglio scommettere su Alice che parte da 5 ovviamente la scommessa la posso fare non appena si è definito il valore di forza iniziale giro questa carta e dico io scommetto su questa battaglia e la carta magari la metto qua vicino e poi poi parte la battaglia come al solito quindi entrambi i giocatori contemporaneamente iniziano a tirar fuori le chips la regina di cuori che aveva vinto la battaglia di prima ovviamente dopo ogni battaglia tutte le chips attive diventano esauste e si comincia a tirare vediamo Alice che tira Alice veramente sfigata praticamente prende un altro gettone la pazzia lo mette qui nel suo tracciato Alice però decide di ripararselo vediamo la regina di cuori la regina di cuori aiaiaiai stavolta ne becca uno praticamente da due vedete dovrebbe eliminare due supporti quindi dovrebbe eliminare questi due ovviamente cerca di eliminarne quanto meno possibile perché se vengono eliminati tutti lei sballa e va fuori quindi che fa la regina di cuori la mette qui e si para anche lei con lo scudo tocca ad Alice in realtà tutte queste cose avvengono simultaneamente le pescate io qua ve le faccio una alla volta perché chiaramente non le posso fare simultaneamente Alice tira fuori il suo supporto di fazione e va a 6 la regina di cuori cerca di controbattere ed ha tira fuori una forgia la forgia dà comunque un punto valore forza e poi vediamo alla fine che cosa vi permetterà di fare continuiamo Alice tira fuori una sua spada addirittura va a più 3 e quindi va a 9 Alice corre corre tantissimo vediamo la regina di cuori come avrebbe ribattuto con un'ascia quindi la regina di cuori parte e va con un'ascia a 6 quindi cerca di recuperare tocca ancora ad Alice che tira fuori un'altra spada e quindi Alice va addirittura a 12 vediamo la regina di cuori come controbatte con un soldato di cuori che gli dà 1 però attenzione perché vediamo il soldato di cuori che dice come alleato dice appena gioca quando ho giocato posso ritornare una delle mie chips esauste nella mia borsa nel mio sacchetto oppure posso raddoppiare la forza di questo gettone quindi io questo gettone o lo faccio diventare 2 oppure posso prendere una di queste e la ributto lì dentro e devo dirvi la verità io prendo ovviamente un'ascia e la ributto qui dentro perché così la posso ovviamente ripescare quindi la regina di cuori fa un solo punto continuiamo con Alice Alice tira fuori addirittura un altro suo supporto edifazione fa 2 punti la regina di cuori tira fuori anche una rosa che è un alleato da 2 vediamo le rose che dicono le rose dicono guadagni un punto vittoria alla fine della battaglia guadagni 2 punti vittoria se tu forgi questo gettone per il momento quindi prendiamo solo i 2 punti forza e li aggiungiamo alla forza della regina ancora Alice tira fuori una forgia quindi Alice fa un altro punto e la regina di cuori tira fuori un 3 quindi addirittura ha tirato fuori lascia 1 2 3 arriva qui la regina di cuori sta recuperando adesso che succede che Alice per passare voi potete anche fermarvi Alice che fa praticamente è in testa però magari o perché ha un obiettivo di una carta che magari gli dice ti devi fermare su un simbolo forgia nella battaglia del prato dei fiori ecc oppure perché per altri piani suoi potete anche decidere di fermarvi nel caso vi voleste fermare mettete la mano nel sacchetto però invece di pescare un gettone non ne pescate nessuno tirate sempre fuori la mano a pugno come sempre la confrontate con quella dell'avversario però quando aprite la mano nella vostra mano non c'è niente il che vuol dire che voi vi siete fermati a questo punto che succede Alice si ferma qui c'è questo tasto che vi dice mi sono fermato Alice si ferma e allora vediamo la regina di cuori invece che va avanti e fa un altro simbolo forgia adesso dovrebbero continuare però Alice si è fermata la regina di cuori che chiaramente se si ferma adesso perde perché è dietro decide di continuare quindi tira un altro gettone è un gettone della pazzia deve eliminare un supporter e lo elimina la regina di cuori continua tira fuori un altro gettone della pazzia elimina un altro supporter e adesso è a grosso rischio perché con un altro gettone della pazzia andrebbe a rimettere tutti questi e questo dentro e potrebbe ripescarli ancora quindi la regina di cuori adesso è il dilemma se continuare e provare a superare Alice oppure fermarsi anche lei continua tira fuori un altro gettone che è un gettone da 1 quindi va ancora qui la regina di cuori vuole continuare ancora vuole proprio rischiare tira fuori 1 da 2 e incredibilmente la regina di cuori supera Alice e ovviamente la battaglia finisce perché in questo caso la regina di cuori è in testa ha superato ovviamente chi era per primo e allora la regina di cuori che fa prende 6 punti vittoria quindi regina di cuori da 2 passa a 8 e vola vincendo 2 battaglie piazza un suo castello anche qui e poi qui il tricheco che ci diceva se vinci una battaglia con il tricheco e l'abbiamo vinta guadagni 3 punti vittoria e potresti addirittura piazzare il tuo castello in un'altra regione ma a noi ci va bene piazzarlo lì solo che i 3 punti vittoria ci fanno passare a 11 invece che succede ad Alice che dice ampti d'ampti se finisci la battaglia con una forza pari oppure al tuo avversario oppure perdi ampti guadagni 3 schegge della pazzia ma non è non è questo il caso adesso prima del clean up della battaglia che si fa allora questi qui restano qui ovviamente quelli sopravvissuti come prima vediamo intanto che è successo al cappellaio matto che aveva scommesso su un vincitore aveva scommesso su Alice il cappellaio matto aveva scommesso male e quindi se perdete la scommessa dovete prendere una scheggia della pazzia quindi il cappellaio matto si prende una scheggia della pazzia e se invece avesse vinto avrebbe potuto prendere un alleato di debole quindi di forza debole a scelta questo è il vantaggio della scommessa prendete un alleato di forza debole se vincete oppure prendete una scheggia della pazzia se perdete allora adesso che succede tutti i gettoni ovviamente della battaglia devono finire sotto nella zona esausta però prima di fare questo si va a vedere prima di tutto se siete in una fase in una zona della forgia Alice per esempio è in una zona della forgia quindi potrebbe forgiare ed ha anche un gettone forgia quindi potrebbe forgiare due volte perché voi potete forgiare se siete qui con il simbolo se terminate la battaglia in uno spazio con il simbolo della forgia oppure anche se avete un gettone forgia allora come funziona la forgia la forgia funziona in questo modo praticamente per ogni azione forgia potete prendere un gettone tra quelli che avete qui nella zona attiva compreso il gettone di forgia e lo potete mettere in uno dei vostri tracciati e allora Alice che fa praticamente prende il suo gettone da uno che è debole così se lo elimina e con la prima azione di forgia lo mette qui e Alice passa a due con la forza con la seconda azione di forgia Alice non vorrebbe togliersi questi ovviamente che sono forti si leva stesso il gettone di forgia e si mette qui e aumenta ancora di più la forza del suo personaggio a tre e poi questi li mette nella zona esausta vediamo la regina di cuori perché la regina di cuori non è in una posizione forgia ma ha due gettoni forgia quindi può forgiare e allora la regina di cuori decide di fare la stessa cosa la regina di cuori prende il suo gettone da uno che è quello più debole e lo mette qui in modo che a fine partita i suoi castelli valgono quattro ne ha già due e quindi guadagnerebbe due punti con la seconda azione di forgia prende il suo soldato di cuori lo mette qui e si alza la forza di base tutto il resto viene messo qui ok la battaglia è finita come vedete i gettoni della pazzia restano qui fino a quando non si riempie il tracciato andiamo a vedere la terza battaglia in senso orario la terza battaglia è qui nel pool of tears e ovviamente c'è solo il cappellaio matto cappellaio matto vince automaticamente questi gettoni ovviamente tornano indietro per le prossime battaglie cappellaio matto vince automaticamente quando vincete da soli quando vincete da soli avete la possibilità di scegliere di o prendere i punti o piazzare il castello non potete fare entrambi se vincete perché non c'è nessun avversario cappellaio matto mette il castello attenzione mi sono scordato prima che alice era terminata seconda nella battaglia quindi i sei punti li prende la regina di cuori però alice essendo seconda chi si piazza secondo prende la metà dei punti che sono scritti qui a seconda del round quindi sono sei alice prenderebbe tre punti quindi alice viene a tre ancora penultima battaglia penultima battaglia siamo qui a witsend e abbiamo il cappellaio matto in persona con un supporter e un supporter della regina di cuori quindi questa volta è alice che non partecipa alla battaglia e alice prima decide di vedere la forza iniziale e poi vedrà su chi scommettere vediamo un po' alice su chi vorrà scommettere allora stabiliamo la forza iniziale la forza iniziale per i supporter è zero il cappellaio matto ha un valore di forza iniziale che è uno quindi il cappellaio matto va a uno regina di cuori a zero e considerando anche che il cappellaio matto ha un'unità in più diciamo che alice vuole andare sul sicuro scommette questa carta no? dice scommetto questa per la scommessa iniziamo la la battaglia allora cappellaio matto e regina di cuori contemporaneamente tirano fuori i gettoni al sacchetto cappellaio matto tira fuori un gettone da due e avanza regina di cuori molti dei gettoni li ha già fuori bisogna vedere che cosa gli è rimasto gli è rimasto un fenicottero che la porta ad uno e il prossimo gettone vi ricordo che il fenicottero raddoppia la forza cappellaio matto cappellaio matto tira fuori un altro gettone da uno quindi cappellaio matto va qui regina di cuori tira fuori un altro gettone della della pazzia quindi completa il tracciato completa il tracciato e che fa riprende tutti li ributta qui dentro e però prende anche tutti gli esausti e li ributta qui dentro quindi praticamente recupera il che a volte non è un bene perché a volte magari avete gettoni più forti e invece così dovete rimetterli tutti quanti dentro recupera e e sballa pure perché perché ovviamente il gettone della pazzia gli doveva far togliere un supporter che era l'unico della della location e quindi la regina sballa sballa torna a zero questo andrebbe negli esausti ma visto che avrebbe che aveva completato anche il coso ritorna immediatamente dentro al sacchetto e può scegliere però avendo sballato di rimettersi lo scudo e vincitore è il cappellaio matto Alice ha indovinato l'esito della battaglia si prende quindi un supporter un alleato a scelta di valore debole si prende una creatura Alice la mette nel nel suo sacchetto quindi il cappellaio matto prende sia i punti quindi fa quattro punti sia mette il castello in questa regione ultima battaglia abbiamo di nuovo Alice e Regina di Cuori che se le danno di tutti i colori a red keep attenzione perché entrambi hanno un obiettivo a red keep per esempio Alice deve finire la battaglia su un simbolo forgia red keep quindi vediamo un po' che succede mentre la Regina di Cuori dice che bisogna finire la battaglia con un gettone fazione o artefatto come chip finale sul tracciato delle chips attive mischiamo un poco qui mischiamo un poco qua ok e adesso il cappellaio matto può scommettere vediamo prima la forza iniziale ci sono entrambi i leader però questa volta Alice è arrivata a 3 e la Regina di Cuori è arrivata a 2 quindi Alice parte già da 3 e la Regina di Cuori parte già da 2 attenzione perché poi due supporter non danno niente e cominciamo Alice tira fuori il suo primo supporter che è una creatura di valore 1 quindi gli da 1 e vediamo un po' le creature che cosa ci dicono che cosa fanno le creature dicono che quando le mettete nella zona esausta potete scambiare questo gettone con un altro di un altro valore della creatura vuol dire che visto che questo è un gettone debole quando finirà qui io posso scambiare il gettone debole con il gettone forte e me lo tengo praticamente qui nella zona esausta finché non rimetto tutto nel sacchetto quindi diciamo che le creature hanno una cosa buona che ogni volta che le giocate possono diventare più forti ma poi possono diventare anche più deboli quindi si trasformano continuamente vediamo la Regina di Cuori che tira fuori Regina di Cuori tira fuori un altro gettone della pazzia e deve eliminare un'unità ovviamente elimina questo non può eliminare se stessa e attenzione perché quando c'è il leader il leader per essere eliminato deve essere l'ultimo rimasto quindi dovete eliminare prima tutte le altre unità prima del leader fatto questo si va ma la Regina di Cuori aveva però lo scudo intatto allora la Regina di Cuori si para il gettone della pazzia vediamo che succede ad Alice tira fuori un altro supporter da uno e Alice è tra l'altro adesso nella nella zona che gli vale la realizzazione diciamo del suo del suo obiettivo però insomma le vorrebbe anche vincere questa partita e vediamo quindi che fa la Regina di Cuori la Regina di Cuori addirittura esce quello lì da due e la Regina di Cuori è immediatamente fuori perché deve eliminare due unità e deve eliminare anche se stessa praticamente una viene qui e un'altra praticamente viene eliminata vince Alice praticamente per eliminazione di tutti i personaggi quindi per lo sballo della della Regina di Cuori che può però ripristinare il il suo scudo e che succede che Alice prende i punti ovviamente qui due punti della della vittoria in più mette un suo castello e Alice però dice alla fine della partita dice io ho fatto anche il mio obiettivo lo mette qui scoperto perché lei doveva finire la battaglia su un simbolo forgia a Red Keep e sul simbolo forgia si e quel simbolo forgia addirittura le permette di fare un'azione di forgia e Alice che fa si mette qui prende un altro un altro punto forza del suo capillaio e avendo completato il tracciato infila un altro artefatto nel suo sacchetto dopodiché tutti i gettoni vengono messi nella nella zona esausta il il cappellaio che aveva scommesso aveva scommesso su Alice aveva scommesso bene quindi il cappellaio si prende un un alleato di valore 1 e lo mette nel sacchetto attenzione perché la guerra è finita che succede alla fine della guerra prima di terminare la fase della guerra volevo dirvi che mi sono dimenticato che il tracciato qui della forza ha un ultimo diciamo traguardo che è quello dei 25 punti forza che vedete porta anche delle stelline perché il vostro crescere nel tracciato della forza per vincere la battaglia è anche una gara se vogliamo il primo che arriva a 25 o che supera 25 praticamente vince vince immediatamente la battaglia vi ricordo che in caso di parità per il primo posto i due giocatori che hanno vinto possono dividersi il premio in che senso che possono scegliere entrambi se mettere il castello nel territorio o se prendere i punti non possono prendere i punti e mettere il castello tutte e due le cose come di solito avviene con una vittoria singola poi il secondo classificato prenderà la metà dei punti vittoria in caso di pareggio per quanto riguarda i secondi classificati beh in quel caso dimezzeranno ulteriormente i punti vittoria che ne so già il punteggio dimezzato era 4 se loro sono in 2 faranno 2 punti a testa vi ricordo inoltre che le scommesse non valgono vengono completamente annullate in caso di parità quindi non c'è una vittoria né una sconfitta in caso di parità per quanto riguarda i primi giocatori infine vi ricordo che qualora doveste finire i gettoni nel vostro sacchetto e non potete più pescarli anche volendo andare avanti la prima cosa da fare è prendere tutti i gettoni che avete nell'area esausta compresi i gettoni della pazzia che sono sul tracciato della pazzia della vostra scheda giocatore quindi praticamente in quest'area e rimettere tutto nel sacchetto dopodiché continuate a pescare dopo una bella mischiata ovviamente quindi se finiscono i gettoni nel sacchetto non vi preoccupate rimettete tutto dentro esausti i gettoni della pazzia e continuate la vostra battaglia ovviamente alla fine della guerra se siete alla fine del terzo round andate direttamente al conteggio finale dei punti ma questo è solamente il primo vi sto facendo vedere un po' di flusso di gioco ma insomma solamente alla fine del terzo round andrete alla conta dei punti quindi che succede alla fine della fase della guerra si tira il dado qui delle schegge e si vede di quanti spazi avanza la nostra spada avanza i due spazi vuol dire che nel prossimo round la prima battaglia avverrà qui nel pull out tears e poi sempre in senso orario dopodiché tutte le chips che avete nella zona esausta oppure nel tracciato della follia ritornano nei vostri sacchetti quindi Alice rimette tutto qui questi qui che ha nel tracciato della follia anche il cappellaio matto questi prima erano esausti quindi li mettiamo qua questo lo mettiamo qui questo lo mettiamo qua e poi che succede tutti i supporter e i wonderlandiani che non sono stati eliminati in battaglia restano dove sono quindi questi due restano qui ampti d'ampti eccetera gli altri supporter restano dove sono guardate se avesse perso un wonderlandiano ovviamente tornava sulla carta che avevate voi vicino alla vostra board e lo avreste potuto ovviamente rimettere al posto di un meeple quando prendevate le carte che vi permettono poi di schierare i meeple durante la fase del tè quindi wonderlandiani non li perdete mai al massimo li potete eliminare dal tabellone e poi al prossimo round possono rientrare in gioco dopodiché che succede che tutti i leader vengono ripiazzati a capotavola per la successiva fase del tè quella del round 2 quindi si mettono tutti qua un'altra volta le carte qui dei wonderlandiani che erano che erano state rivelate alla fine della guerra che fanno vengono tolte si rinfilano nel mazzo si mischia tutto il mazzo dopodiché se ne scelgono altri tre ok quindi alla fine di ogni guerra c'è un refresh delle carte dei wonderlandiani disponibili e poi ci si prepara per per il successivo party del tè quindi che fa si levano tutte le carte tutte le carte si mettono qua levate le levate le mettete nel nel mazzo e prendiamo questa 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 e questa leviamo tutto velocemente e poi che fate prendete il nuovo mazzetto quello del round 2 lo mettete qui sul vassoio mischiate un po' e rimettete tutte le carte no rimettete tutte le carte fino agli spazi dei giocatori ovviamente attuali e si ricomincia con la fase del tè che abbiamo già spiegato ops una l'ho messa qui dentro e vedrete che a mano a mano le carte saranno sempre più potenti sempre più potenti quindi vedrete che potete mettere più meeple le icone come vedete sono sempre le stesse questa icona qui vi dice che potete prendere due carte quest e tra le due ne scegliete una l'altra va negli scarti per il resto come vedete le icone sono sempre le stesse magari escono degli alleati poi un po' più forti qui c'è questo simbolo che vuol dire piazzate un castello indipendentemente se avete vinto una battaglia o meno ne piazzate uno dove volete vedete qui addirittura sono due creature una già forte anche qui c'è un fenicottero forte e così via si ricomincia e si continua ricordatevi che Alice ha l'abilità che si muove in senso anti-orario è molto utile perché come dicevamo prima vi dovete muovere in senso orario e se vi interessa questa carta qui la regina di cuore dovrà arrivare fin qua ma dopo dovrà ripassare per il capotavolo e tirare il dado delle schegge invece Alice si muove in senso anti-orario e arriva direttamente qui e se c'è una carta forte alla fine del tavolo Alice la prende subito perché si muove nell'altro senso bene questo è il flusso di gioco come vedete non è assolutamente difficile alla fine della partita mi raccomando si contano si parte ovviamente dal tracciato dei punti si vede a quanti punti siete dopodiché dovete prendere i punti per ogni castello che avete messo in gioco ricordatevi che valgono tre punti ma se avete utilizzato questo tracciato della forgia ovviamente potrebbero valere fino a sei punti dopodiché si vedono le carte delle quest tutte le carte risolte quanti punti vi danno se tre punti solamente se avete fatto solo una metà o nove punti se li avete fatto tutti e due e poi infine sottraete tutti i punti con i punti negativi cioè tutte le schegge e la pazzia che avete dopodiché chi ha più punti vince è un gioco veramente veramente divertente anche chi non partecipa alle battaglie è lì che tifa perché ha scommesso e insomma è un gioco che è bello ha ottimi componenti un po' caro sicuramente però i componenti sono veramente unici e diverte diverte può divertire chiunque avete visto una volta preso familiarità con le dinamiche del gioco con i simboli sulle carte è veramente molto molto semplice il manuale tra l'altro è scritto molto bene ci sono anche delle risposte alle FAQ le carte spiegate anche insomma anche su BGG trovate un po' tutto e niente io ve lo straconsiglio questo gioco a noi è piaciuto tantissimo lo giocheremo spesso e terminiamo qui anche quest'altro tutorial e ci vediamo alla prossima ciao a tutti io sono Zul se vi piace il nostro canale con questi tutorial così corposi ma esaustivi mettete un mi piace così restate aggiornate sulle ultime novità grazie a tutti ciao ciao